Intanto volevo anche controllare se mi fa fare una cosa Ok Perfetto Perfetto, perfetto, perfetto Direi che potremmo iniziare Sì Tu sei in partita? Sì, sì, invitami Mi dice Obiettivo follower raggiunto 30 su 30 Ah, a proposito Come si aggiungeva gli obiettivi? Ecco Eh, insomma, l'hai detto Vediamo Perché qua sicuramente c'è qualcosa Eh, ma aspetta Infatti Cazzo Aspetta, infatti Allora Andiamo un attimo a più C'è la confezza Vediamo se riusciamo No Mi si è sconnesso di Ocam Il cazzo di cavo ha rotto i tre quarti di micia Tipo Se io metto informazioni No Home Video No Allora No Ci Sì Ci Devo fare quindi Devo entrare su Twitch Studio Modificarlo Da list Scene Lo qua C'è Andiamo sulla Profi Pagina del canale Personalizza canale Mettiamo stream Era nella stream Archiviazione e trasmissioni Abilità clip La creazione di clip dei tuoi streaming Sì Solo per abbonati? No Solo per follower? No Allora Avviso analitica Analitica Credo No Obiettivi Eccoli Produzione Dove li hai trovati? Impostazioni Giusto? Sì Però Non me li fai Non sono obiettivi da impostare No 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 Te li mette lui Tu non li imposti Figurati Sono suggerimenti anche Puoi seguire E come si applicano? Cosa? E come si applicano? Tu semplicemente Da impostazioni Vai O su suggerimenti Oppure Vediamo se c'è altro Perché adesso non trovo Video producer Che se ho questo Per gli obiettivi Cazzo Me li trovavo sempre Se non mi dico Quale cazzo era Allora Ricompenza Personalizza Avanzamento Avvia obiettivo Eccolo qua A posto Ok Credo che adesso Ci dovrebbe vedere Stenzioni Consumiti Streaming C'era un po' di roba Da aggiungere Però Non fa stare a guardare Questa roba qui Analitica Visica Sto e streaming Impostazioni Vediamo Canale Moderazione Ricompense Spettatori Streaming Con strumenti Streaming Sto e spettatori Movimento Sto e streaming Faccio usare Per te Ok Vabbè Dove di iniziare Io comunque Sì Minchia Con questo team Siamo un cancro Siamo un cancro Grandi Cri Grandi Cri Siamo un cancro Siamo un cancro Ma Ho stato Tanto a quella Di Che se mi Jumpa in faccia Sono fottuto Ti vuole Jumpare in faccia No Una porca Madonna Eh Bastardo 19 power up Bastardo Manco Moia Lo stronzetto Sono un po' Il merda In sta mappa Quando ci si Intrinsicare Un po' Se ci hai fatto A caso Eh sì Perché di range Ne ha un botto Però Qui cazzo È veramente Guà Due colpi Ne escono Pieno viti Proprio È troppo Intrinsicata Sta mappetta Di merda Casino di questo Bronner che c'ho io È che ci mette anni A caricare i colpi Sì 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 Ma Ma Come Aspetta Un'altra Cristo Dio Ascol Cambiamo modalità Questa modalità qua Mi ha rotto il cazzo Sta mappa Facciamo che ne so Vediamo Anche questa qui Non è male Domeni Raffa gemme Ci sta No Football no Boh Facciamo raffa gemme K.O Quale preferisci? Ma io metri Metteresti Metteresti Che modelta vuoi fare? Allora Allora Ho K.O. Ho raffa gemme Ci sta Secondo O K.O. O raffa gemme Senti? Ok K.O. Io ne avrei uno Che il mio amichetto L'audio al massimo Fa fai un culo Scusa Il bello della life Della life Pipe pad Allora O I 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 Non c'è anche un'emissione suicida. Cazzo. Mi hanno cravato nel culo. Eh, fra questa già ci sono giocati male. Cazzo, molto male. Devo aspettare che si avvicini qualcuno perché io non mi pu... Oh, raga, avvicinatevi che mi mando la cazzo di cura. Questa è un'ottima giocata. No, minchia, mi ha esplodato la bomba, porto Dio. Niente, fanculo, cazzo. Aspetta che mi cambi il brawler perché non è adatto lui qua. Qui ci metterai quello su cui stavo puntando. Proviamo con lui. Il bello cattivello. Ci facciamo bannare anche oggi? Facciamo bannare? Sì. No, per l'amor di Dio no. Non voglio perdere il mio impero. Non voglio perdere il mio impero. GG, ottimo. Adesso faccio anche peggio. Almeno dopo. Ah, sì, mi faccio ammazzare come un coglione, visto come fa più peggio. C'è quel batterolo che mi ha colpito all'inizio. è un bifo. È un bifo. Guarda, anche la mossa tattica che ho traicolato l'ultima mi hanno messo ad estrar male. Non ho predittato. Cazzo. Mi aveva dimenticato che faceva il coso per attraversare le pareti lei. Minchia. Non so come cazzo l'ho ucciso, però va bene. Devo stare... No. Ha rotto il cazzo con quella ulti quella, eh. Ha rotto veramente il cazzo. Vai Cree, vai Cree, vai Cree. Eh, devo stare attento a non fargliela caricare di nuovo perché rischia di ammazzare tutti. Eh, non avete steso. Vabbè, ma sono chiusi, sono chiusi. Mi sono stessi ben caricarsi in bocca tanto. Ok, avete vinto. Abbiamo vinto. Ho vinto. Abbiamo vinto. Ho vinto io. Io come... Cioè, no, come lo dico. Non lo dico. ternato... Pucco loco. Pocho pocho. Uf. Sì. Ti dirò, non ho usato ancora un gadget. Grazie a Redfire per l'iscrizione. Grazie a Redfire per l'iscrizione e a Redfire per l'iscrizione. Grazie a Redfire per l'iscrizione. Grazie a Redfire per l'iscrizione. Grazie a Redfire. Grazie a Redfire per l'iscrizione. Grazie a Redfire. Grazie a Redfire per l'iscrizione. Grazie a Redfire. 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 io me le merito ma non loro perché non stiamo vincendo dove sono le mie vittorie dove sono le mie donazioni meritate messaggi subliminali ma c'è Nico Flex chi? ah vabbè questi li facciamo easy eh il cazzo mi hanno impulato con l'abbassardo in mezzo al cazzo così che perso è anche rallentata ma non prende danni non gliene fotte il cazzo cioè loro rimangono con un piscio di vita e noi invece ci sciolgono come a merda non è che è un round se non la stende così rimaneva con uno di vita con uno rimaneva di vita bisogna crederci raga bisogna credere in lui anche se adesso col bastardo si la bisogna credere in voi stessi guarda lui adesso se crede abbastanza in se stesso riesce a sconfiggerlo se lui è intelligente cazzo e le lancia la ulti così 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 non è ma si ritrasforma nel carro armato questa foca vai vinta mi inchia guarda cosa gli ha caricato gli ha caricato di tutto e di più la sburria la sbruma la sbrofa la riempita eh eh adesso ti va a tirare la sbrofa cazzo dove vai ma dove vai la sbrofa mamma mia così dobbiamo giocare la vendetta vera Niccoflex puoi giocare? oh vabbè se qualcuno vuole giocare può giocare tutti quelli presenti in live possono giocare ovviamente devono essere iscritti anche il canale donare centomila dollari no donare no la donazione la donazione viene dopo magari e dammi centomila dollari Nicco adesso si arriva alle minacce in realtà cioè non lo conosci ma conosci un amico in comune di Nicco Tuccio esatto proprio lui la leggenda colui che non deve essere nominato per carità mi ha detto che anche con metà schermo sta nerdando ed è arrivato in diamante 2 con metà schermo? sì pensa alle pippi che ci si fa sopra cazzo ma mi ha fullato vita però eh così dobbiamo giocare bellissimo corvo che si chiama spike è un corvo con tipo bipolarità e problemi è bipolare è bipolare lascia in pace soffre di bipolarismo minchia 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 oh questa qua ha fatto del tipo boh questo punto fottimi ammazzatemi voglio morire dammi il colpo di grazia ha fatto chi ti ricorda qualcuno amico flex ho acceso gli incensi ho fatto il cosino guarda questo te lo dedico al mio amico bipolare greve 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 in realtà il mio amico bipolare sono me stesso è l'altra mia versione di Cristian ho giocato avanti ieri ma non si è d'accordo nessuno comunque mi sto sempre più convincendo che in realtà la skin di Spike e Pup Spike non è poi così male immagina in combattimento lanciare la cacca alla gente gli fai danni sia di danni che di umiliazione praticamente cazzo non ci credo le stavo caricando un megacolpo mi ha fu... ah si sei solo contro due cazzo c'eri quasi però mi sono fatto prendere la mano perdono la che? è arrivato un Cristo così da lontano è in arrivare un altro eh colpi che sciolgono raga avvicinare quegli schifosi però mi tocca fare tipo il Vietnam qua io adesso mi sto curando un attimo perché se no se mi arriva un altro colpo cazzo 2008 cioè praticamente mi sta togliendo metà vita cazzo mi si è bloccato dai che muoiono avvelenati non dico come cosa sono morti perché mi bannano cosa? non dico come sono morti perché mi bannano come sono morti dico solo una parola e devi capirla a cosa si riferisce dotta e questo è il karma che mi torna indietro perché la capita sa che l'inferno non lo sopporto quel cazzo di cosa attraversa le pareti mi chiama a farlo a tua madre cazzo quando sta scappando dietro la parete cazzo lei cazzo mi giuro muori sono tipo un po' di cenere le saponate un'altra parola indizio ma non dico altro ho capito non ridere o finirei con l'inferno l'inferno con me non esiste l'inferno l'hai inventato quel bastardo di Dante e basta dire che esiste l'inferno è come dire che esiste Babbo Natale che Babbo Natale esiste? che cazzo stai dicendo? non esiste Babbo Natale tutti i bambini che guardano non esiste Babbo Natale io sono Babbo Natale Gunterslash esiste? che? Gunterslash millo che ha fatto qualcosa di brutto questa stronza non c'è riuscita è andata una bagaggia doppia sono spossi baby sono spossi baby oppala e vabbè coppà sei vendicata la butta minchia adesso c'entra adesso un po' non so ti chiedo di capire dove ne c'è spuglia indovinello sono un mostro non dovevo crepare ti sta bestemmiando anche lei dove dove è? l'uccellino è vivo o morto ma se la prende fa 8000 di danno ti sta bestemmiando non lo ricordo fa un culo e vabbè era complessa la situa vai minchia brucia brucia come come non dico come chi non si dice come il culo nel sale eh esatto c'è il sale nel culo ma a gusto c'è chi mette il culo nel sale e chi mette il sale nel culo basta gente a distanza Cristo oddio perché sono a distanza anch'io perché non è corto come raggi tutte le relazioni al giorno d'oggi sono a distanza eh vabbè hanno rotto un po' il cazzo per la vita figli della merda che avvicinassero ste checche la merda lo sapevo cazzo che non potevo avvicinarmi si doveva andare dall'altra parte ma fammi capire quando salta non può caricarlo quando? quando salta non sa non carica no vabbè so io che preferisco fare un colpo breve ma non fa un cazzo di danno si stanno avvicinando spavano ci hanno bruciati poi c'è il genio che si butta sulla merda ma io voglio fare il primo tra lì ho la bustina per luttare i miei centri oh dio aspetta vedre se c'è Redfire oh my dio ci sei Redfire si è solo che c'è una modalità silenziata in senso che dove si può inviare la richiesta di amicizia cioè non la richiesta la richiesta di partecipare alle partite eccolo porca putta c'ha 60.000 trofei fra minchia sobrio ci bestemmia secondo te da 1 a 1 quanto ci bestemmia non lo so ma 60.000 trofei vogliono fatti cazzo ahimè si niente a così di male che mi ha fatto cazzo quel quello un genio di merda pure è partito fammi vedere che cazzo sta facendo oh mi fanno vedere cosa fa l'altro con le bighe mi fanno vedere solo cosa fai tu non gliene frega un cazzo ci sono rimasto ci sono rimasto solo dobbiamo recuperare se no questo ci prende a voci grazie 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 ma tutto ok ma tutto ok questo è accanimento raziale solo perché sono messicani brutte merdacce ma vaffanculo sei morto per coma e quello sta bestemmiando invece lo vedo di che tipo in nella sua lingua che è scumiesca avessi la bocca ok dai però vado l'ho schivato anche lui quella l'arfinale l'abbiamo visto ma qua come si accanisce su di noi su di noi ecco l'accanimento sulla mia schiena è tipo una sbarrata sulla schiena e te la sentiamo ancora scena potrebbe l'ambiente e te la sentiamo